Signore, aspettami! Non andare così in fretta. Io non posso seguirti. Tu vai troppo forte per me. Aspettami, lasciati raggiungere. Signore, però non devi fermarti né rallentare il tuo passo. Signore, voglio percorrere la strada verso la tua casa. Signore, non preoccuparti di venire verso di me. Io mi affretto verso di te. Potremmo parlarci lungo la strada, fare una sosta. Signore, non sono degno di accoglierti sotto il mio tetto. Però tu hai già aperto la porta e varcato la soglia. Signore, non ho nulla di pronto. Non ho preparato niente per riceverti. Ma già l'amore senza limiti è entrato nella mia stanza e mi dice, metti te tavola. Voglio cenare con te.